a quindi voi mi hanno chiesto di consigliarvi una scheda video che non costi tanto quella prima richiesta che mi fate tutti e che vi permette di giocare a tutti i titoli con la risoluzione di 1080 ed ecco la mia scelta che è ricaduta sulla ridon rx 6650 xt dopo la sigla la recensione iniziamo dal prezzo nel momento in cui registro il prezzo di questa scheda e sulle 240 euro è un buon prezzo perché prima costava molto di più e ha comunque delle buone prestazioni ma dopo parliamo delle specifiche comunque per chi è interessato sotto al video trovate il link ovviamente con il tempo il prezzo può variare può costare di più o anche di meno iniziamo dalle specifiche tecniche iniziamo dalla gpu con la frequenza base di 2410 megahertz per arrivare a una frequenza massima di 2635 megahertz è dotata di 8 giga di ram ddr6 e se qualcuno se lo sta chiedendo questa scheda video è paragonabile e sarà gioca con l'rtx 3060 che ovviamente costa di più voglio anche aggiungere che a me piacciono molto le schede video ridon però devo anche ammettere che purtroppo delle volte alcuni driver non sono proprio stabili e danno alcuni problemi io ad esempio ho avuto dei problemi sul programma di montaggio che mi cresceva continuamente ho risolto poi con il downgrade del driver e diciamo che con nvidia non ho mai avuto problemi i driver sono molto più stabili questa scheda riesce a supportare massimo 4 monitor è una risoluzione massima di 7680 per 4320 pixel posteriormente troviamo tre displayport versione 1.4 e un hdmi 2.1 ovviamente per funzionare ha bisogno dell'alimentazione esterna e a raffreddare oltre al dissipatore ci pensano le due ventole l'alimentazione esterna richiesta è da 8 pin come vi ho già detto è una scheda video di fascia media adatta a giocare con una risoluzione di 1080 buone le prestazioni di questa rx 6650 per chi è interessato come al solito trovate il link sotto al video e se avete apprezzato questa recensione non dimenticatevi di lasciare un like e se ancora non vi siete iscritti fatelo per non perdervi il prossimo video non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su youtube ciao a tutti